Tutte queste informazioni vanno a essere raccolte e possono essere integrate per ottenere risultati straordinari. Il processo di creazione di una dashboard su Tableau in Engie è abbastanza strutturato, nel senso che abbiamo definito un processo che coinvolgesse sia le aree di business che la funzione T, in modo tale da andare a costruire una dashboard in modo coadivato insieme. Di navigare direttamente alla dashboard, che in questo caso è divisa in ben 7 report di analisi. La prima riguarda il funnel, la seconda riguarda gli step e come andremo a vedere andremo a calare sempre più l'analisi in maniera dettagliata. Anche per farvi capire quanto in una dashboard unica abbiamo visto praticamente quasi tutti i tipi di visualizzazioni, vedo una chart, la vista tramite mappa geografica, le tabelle in highlight e praticamente abbiamo davvero tutto il parco visualizzazioni presente e concludiamo con quella che è forse la più vista, la più utilizzata che è il bar chart in una logica di trend. Grazie a tutti!